Ora si registrerà la conferenza. E' un problema che riguarda anche il PNRR perché come certamente saprete ci sono delle difficoltà. Gli ultimi dati sono che i cantieri che stanno per partire sul PNRR sono fuori di 24 miliardi di euro e quindi il governo dovrà dare delle risposte sull'adeguamento perché i costi delle materie prime ed energetiche stanno praticamente scoppiando e creano dei problemi. E' un problema che sono davvero importanti a quello che è la cosiddetta messa a terra del piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi sono delle problematiche effettivamente da colmare e soprattutto da riscontrare sul territorio. Adesso poi approfondiremo anche questi temi qua. Il Presidente si sta collegando. Grazie per i nostri comuni del territorio e anche per le province. Ciao Filippo Abbiamo 27 persone in presenza e 105 persone online. Molti di questi sono dei tecnici. Ecco, ecco il Presidente che è ancora in treno. Buongiorno. Buongiorno Presidente, sono ancora in treno. Ti lasciamo la parola per l'introduzione e il saluto a questo workshop in cui verranno presentati gli esperti del PNRR. Vai pure. Bene, innanzitutto mi scuso per la qualità del collegamento, ma questo passa al convento. Saluto tutti quanti voi, saluto ovviamente il nostro segretario generale, il dottor Busso, Michele Pianetta, in rappresentanza di Anci, la dottoressa Crotta e saluto tutti quanti voi amici e colleghi che partecipate oggi a questo workshop. Beh, credo che la sfida del PNRR sia la sfida più, beh, diciamo prima degli eventi bellici a cui stiamo assistendo purtroppo in questo momento, dicevo la sfida del PNRR sia una delle sfide più complesse ma stimolanti che abbiamo davanti come persone che hanno una responsabilità di diverso titolo rispetto alle nostre comunità di riferimento. Diciamo che uno degli elementi che questa sfida sta facendo emergere è il bisogno che la pubblica amministrazione ha di recuperare il tempo e l'opportunità perse. Con i vari blocchi del turnover, l'idea che gli investimenti in formazione fossero spesa cattiva, mentre stiamo, ahimè, comprendendo sulla nostra pelle, che avere una pubblica amministrazione numericamente consistente, formata, proattiva, aggiornata, al di là della buona volontà dei singoli, ma comunque è una risorsa imprescindibile, appunto la sfida del PNRR ci sta facendo vedere quanto è importante questo aspetto. Riuscire ad avere, a costruire dei gruppi di lavoro di persone specializzate penso che sia una delle strade che possono rendere meno complicato il raggiungimento dell'obiettivo di riuscire ad investire a favore delle nostre comunità, dei nostri territori, le risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza. Credo che l'appuntamento di oggi, e ringrazio la regione per questo tour che sta facendo nelle varie province, credo che possa essere una ulteriore freccia al nostro arco. Sapete che la provincia di Cuneo, insieme con altre realtà importanti del territorio, penso una su tutte, la Fondazione Cassa degli Sparmi di Cuneo, abbiamo già svolto un lavoro importante sulla partita dei fondi Next Generation EU e PNRR, abbiamo fatto un piano strategico, abbiamo cercato di darci una strategia provinciale coerente, ragionando sugli assi di sviluppo e sui principali interventi di cui il nostro territorio ha bisogno. Sappiamo che abbiamo fatto come provincia un protocollo di intesa per aiutare i nostri 247 comuni, che sono in gran parte piccoli o piccolissimi, a riuscire a provare a giocare la partita del PNRR e hanno preso servizio in questi giorni. Sono presenti di saluto il gruppo di lavoro della struttura SEIS, che sono cinque persone che guidate dalla dottoressa Agnello e dalla dottoressa Aglione e dal dottor Musso, cercheranno di supportare il territorio nelle candidature, nel riuscire a scaricare queste risorse. Oggi vediamo e ascolteremo con grande attenzione il tema degli esperti che sappiamo a cascata dal governo, che sono stati messi a disposizione delle regioni e dalle regioni verranno messi a disposizione i territori. Credo che portare a bordo il maggior numero possibile di professionalità e professionalità di alto livello sia l'unica vera garanzia o l'unica vera possibilità che possiamo avere o possiamo immaginare di avere per centrare gli obiettivi di far sì che il PNRR sia non solo un'opportunità di uscita dall'incubo della pandemia, ma sia una vera opportunità di rilancio del nostro territorio in primo luogo e del nostro paese. E quindi vi ringrazio e auguro a tutti quanti un proficuo lavoro. Grazie. Grazie Presidente, grazie. Mi raccomando, a Roma cerca di lavorare bene per il nostro territorio perché abbiamo bisogno che il governo ci dia delle risposte. Grazie Presidente. Allora, qui abbiamo un altro Presidente che è il Vice Presidente Michele Pianetta del Lanci Piemonte. Lanci diciamo che ha cercato di fare un po' da baricentro per tutti i comuni italiani proprio sul PNRR. Adesso stiamo affrontando, abbiamo affrontato appena finito adesso l'accesso ai bandi borghi storici. Ci stiamo misurando qui in Piemonte con il bando della rigenerazione urbana. È un banco di prova. Le problematiche sono davvero tantissime. Una delle cose che abbiamo notato nei nostri 1200 comuni piemontesi è naturalmente la grande difficoltà di accedere a questo genere di bandi e di costruire le adesioni con le schede progettuali, con i vari step, con i partenariati, con il privato, con le associazioni, con le altre istituzioni. E quindi è veramente una grandissima difficoltà che stiamo raccogliendo a livello territoriale, soprattutto come diceva il Presidente Borgna, per i comuni più piccoli, comuni di 100 abitanti, di 200 abitanti, di 1000 abitanti che sono la maggior parte dei comuni piemontesi. Io credo che Lanci in questo stia cercando di capire quali sono le problematiche e farle emergere sempre meglio nei confronti del governo, soprattutto per alcune problematiche che noi avevamo già sollevato in passato e che ritorniamo a richiedere che Lanci sta cercando di portare avanti, soprattutto relativamente alla parte finanziaria. Cioè molti comuni piccoli poi avranno delle difficoltà, nel caso fossero assegnatari dei finanziamenti, a spendere i soldi e cioè ad anticipare i soldi se non c'è un vero e proprio supporto organizzativo e tecnico da parte di Cassa Depositi Prestiti, di Finpiemonte, di qualche struttura tecnica che sia pronta e disponibile a supportare i comuni nell'esercizio della gestione del PNR, perché adesso siamo nelle fasi della richiesta e dell'accesso al PNR. Però ci sarà poi per qualcuno dei più fortunati la messa in prova della capacità dell'ente di gestire e soprattutto monitorare, anche con la Corte dei Conti, e poi soprattutto rendicontare le spese del PNR. Quindi a Lanci chiediamo, come sempre, di farci da spalla e da grillo parlante nei confronti dello Stato, in modo particolare, ma anche della Regione Piemonte, e so che attraverso la cabina di Regie, con Marco Orlando e con il Presidente e Sindaco di Vercelli, si sta facendo un po' di luce, di più, su questo genere di aspetti. Prego Marco. Michele. Grazie. Mi associo ai ringraziamenti che faceva il Presidente Borghi in apertura a Regione per essere scesa sui territori per raccontare questa misura. Condivido le considerazioni di metodo che faceva il Dottor Musso rispetto alla necessità che Anci sia, insieme alle province, insieme ai corpi intermedi, una delle realtà che vanno in qualche misura a sollecitare chi si troverà poi ad attuare la misura del PNR sui territori affinché le cose accadano nel modo più opportuno possibile per gli enti locali. Sicuramente vi è un tema che è quello delle risorse, delle risorse umane, che è un tema da non trascurare, e quindi il fatto di oggi presentare una task force che, come giustamente la Dottoressa Crotta aveva già evidenziato, a Torino nasce con l'obiettivo di aiutare i territori, è una cosa buona e giusta che come associazione degli enti locali non possiamo che accogliere con particolare soddisfazione. Una considerazione generale, richiamando quello che diceva il Presidente Borgni in apertura, quando riferendosi a questa misura, in generale a tutte le misure di attrazione risorse per il PNRR, penso ad esempio a Fondazione CRC, dicevo che il Presidente Borgni ha richiamato un termine che è quello dell'aggiungere frecce all'arco dei comuni. Ecco, io credo che questo sia poi il vero obiettivo, cercando da un lato di coniugare che cosa voi oggi andrete a presentare con le professionalità che ci sono sia all'interno dei nostri enti locali, ma anche con quello che accadrà su determinate misure. L'avevo richiamato a Torino, lo ridico volentieri oggi, vi è sicuramente da creare in qualche misura un collegamento con la Task Force sull'innovazione che verrà lanciata dal Ministero di Colau di qui a un paio di settimane. Sappiamo bene come di 4 euro destinati al PNRR, uno riguarderà il digitale, quindi il 25%, sicuramente in territori come il nostro dove il digital divide è all'ordine del giorno, questo è un argomento secondo me da tenere in considerazione. Senza dimenticare che i comuni devono essere coinvolti anche nella fase attuativa delle misure, quindi siamo contenti che Anci insieme alle province siede in questa cabina di regia per verificare il monitoraggio della misura che oggi andrete a presentare e vi ribadiamo quell'ascolto e quella disponibilità che il dottor Musso citava anche in apertura. Quindi io vi ringrazio, seguirò un pezzo dei vostri lavori, poi vi scuso ma devo andare da un'altra parte, ma vi ho già seguito ampiamente a Torino e quindi sono abbastanza preparato sul tema. Grazie e buon lavoro. Grazie Michele, grazie a Lanci Piemonte e quindi adesso possiamo entrare subito nel vivo della nostra presentazione e chiederei appunto all'ingegner Stefania Crotta che è il direttore regionale per l'ambiente e l'energia e del territorio della regione Piemonte di presentarci questa task force relativa appunto agli esperti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza su cui contiamo di poterci appoggiare. Prego. Buongiorno a tutti, intanto grazie per l'organizzazione di questa giornata e la terza giornata che facciamo per la presentazione di questa misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che è una finalità, diciamo, è una misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è una misura finalizzata al rafforzamento amministrativo degli enti locali e anche della regione, quindi delle pubbliche amministrazioni ed è finalizzata quindi a ridurre quelli che sono i colli di bottiglia che si presentano in alcune procedure complesse che noi portiamo avanti durante... Metta più vicino il microfono. ...che portiamo avanti nella nostra attività amministrativa e a identificare anche la possibilità di snellire le nostre procedure, i nostri processi, in maniera tale da ridurre quelli che sono i tempi dei procedimenti. Non ha la finalità di supportare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei progetti a valere sulle altre misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo lo voglio chiarire perché è un, diciamo, un misunderstanding che attraversa ormai da mesi l'attuazione di questa misura, nel senso che ha una ricaduta anche sulle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza perché laddove non riuscissimo a ridurre quello che è il carico di lavoro degli enti sulle procedure complesse che adesso vi elencherò, questo ci consentirà di in qualche modo liberare gli uffici per meglio dedicarli a quelle che è l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Io avevo preparato delle slide, non so se la regia riesce a mandarle in onda, altrimenti io comunque le scorro perché per fortuna me le ero stampate. Non c'è la corrente, va bene. Mi spiace, le metto comunque a disposizione. Ovviamente intanto vi devo dire che questo appunto è il terzo incontro. Abbiamo fatto un incontro a Torino dove abbiamo coinvolto la provincia di Asti e la città metropolitana di Torino come territori di riferimento. Poi abbiamo fatto un incontro a Novara dove abbiamo coinvolto tutte le altre province esclusa Alessandria e Cuneo che incontravamo oggi. Questi incontri sono stati possibili grazie al supporto delle amministrazioni ospitanti e delle associazioni dei nostri enti locali che sono soggetti per noi fondamentali in questa trasmissione anche dell'informazione relativa a questa misura. Serve per far conoscere quelli che sono gli obiettivi della misura, la modalità in cui ci siamo organizzati e la modalità in cui gli enti potranno chiedere supporto ai nostri esperti. Ricordo solo brevemente che questa misura è la misura investimento 2-2 della missione 1 componente 1. Quindi si chiama Task Force Digitalizzazione, Monitoraggio e Performance. È un nome che non dice esattamente niente rispetto alla grandissima attività che abbiamo messo in piedi. Sono mille esperti su tutto il territorio nazionale e in particolare sul nostro territorio rispetto ai parametri di popolazione e superficie ne sono stati assegnati 60. Diciamo che è un numero che può essere implementato in una possibile revisione del piano territoriale che è stato approvato dalla Giunta regionale in prima battuta alla fine del mese di novembre e poi aggiornato il 4-12 di gennaio. Attenderemo l'eventuale modifica del piano territoriale regionale in esito alla prima fase di supporto che formiremo sul territorio per capire intanto se abbiamo in qualche modo azzeccato i profili di cui il nostro territorio ha necessità e quindi eventualmente dovessimo modificare potremmo implementare anche alcuni profili che per esempio non abbiamo considerato in prima battuta ma anche con riferimento al tipo di supporto potremmo modificare alcune delle previsioni fatte all'interno del piano territoriale. I nostri esperti sono stati contratualizzati nel mese di dicembre il 31 dicembre possiamo andare avanti nella prossima e anche nell'altra grazie sono stati contratualizzati il 31 dicembre del 2021 rispettando quello che era diciamo l'indicazione che ci aveva dato il Dipartimento della Funzione Pubblica che coordina questa misura sono stati selezionati sulla base di elenchi predisposti all'interno di un portale del Dipartimento della Funzione Pubblica in funzione del profilo interessato le procedure che il piano territoriale regionale ha individuato come procedure su cui gli esperti devono dare il supporto sono cinque e le vedete elencate i bonifiche rifiuti servizi di dedico integrato rinnovabili e infrastrutture digitali a queste però sono collegati degli endoprocedimenti su cui potrà essere fornito supporto quindi procedimenti connessi ad appalti edilizia urbanistica paesaggio e valutazioni ambientali l'obiettivo che abbiamo diciamo approvato col piano territoriale che ci sono stati assegnati dal Dipartimento della Funzione Pubblica sono essenzialmente due e quindi qui capite il valore della misura noi dobbiamo ridurre l'arretratto del cento per cento al duemila e venticinque e ridurre i tempi istruttori del dieci per cento al duemila e ventitré e di una forbice che varia tra il dieci e il venti per cento a seconda delle procedure complesse al duemila e venticinque la prima domanda che occorre porsi è ridurre rispetto a cosa? allora la prima grande sfida è costruire la baseline cioè il punto di partenza da cui misuriamo il raggiungimento degli obiettivi e infatti uno degli obiettivi intermedi che all'interno del piano territoriale si trovano è quello di riverificare la raggiungibilità di questi obiettivi una volta che sia stata costruita la baseline su tutto il territorio regionale possiamo andare alla prossima grazie aggiungo una cosa sul termine arretrato le nostre amministrazioni non sono cariche di arretrati sono cariche forse di procedure ferme per quelli di bottiglia irrisolti per situazioni che non si riescono a sbloccare quindi la parola arretrato va considerata questo ce lo siamo detti con tutte le regioni perché l'arretrato diventa un problema anche disciplinare degli uffici quindi non è una cosa normale che si trovi in uffici con degli arretrati si trovano uffici con degli zainetti di pratiche ferme ma non solo a causa di problemi interni alle amministrazioni ma spesso anche a causa di problemi relativi ai proponenti i procedimenti quindi uno dei temi che i nostri esperti potranno affrontare è anche la modalità con cui le amministrazioni possono confrontarsi con i propri stakeholder in maniera tale che le pratiche vengano già presentate in una forma che risulti più snella rispetto all'avanzamento della procedura allora come avete visto le procedure ex complesse tranne una sono tutte nell'ambito ambientale e pertanto questa misura è stata allocata nell'ambito della regione Piemonte nella direzione che io ho il piacere di dirigere che è la direzione ambiente, energia e territorio una direzione piuttosto ampia che abbraccia tutti i temi ambientali e tutta la parte che riguarda la pianificazione territoriale oltre alla montagna come area più territoriale che competenza verticale e le foreste allora in questa direzione è stata costituita una nuova struttura una struttura speciale che ha la durata di tre anni perché i contratti degli esperti hanno una durata di un anno rinnovabile per altri due che proprio si chiama PNRR 1000 esperti attuazione del piano territoriale per il supporto alla regione agli enti locali nella gestione di procedure complesse abbiamo selezionato una delle dirigenti che ha vinto il concorso recentemente chiuso della regione Piemonte sul profilo amministrativo che è la dottoressa Paola Ferrario che è qua con noi e due alte professionalità un project manager che è la dottoressa Anna Maria Caputano che è anche lei qui con noi e un financial manager che è la dottoressa Marcella Minunni per il momento la nostra struttura interna è questa però ovviamente abbiamo il supporto dei 60 esperti che sono diventati 59 perché uno si è dimesso purtroppo strada facendo e quindi anche lì dovremmo verificare che profilo a che profilo attingere perché in realtà era l'ultimo della graduatoria di quel profilo e quindi in ogni caso dovremmo cambiare il piano territoriale per poter arrivare ai 60 questi 59 esperti sono stati diciamo articolati in due macro aree che è una parte di assistenza tecnica al progetto e di supporto alla cabina di regia e gli altri suddivisi in otto task force le task force sono diciamo territorializzate non con riferimento agli enti ma con riferimento ai territori ma sono a geometria variabile e quindi la loro modifica dipende moltissimo dalle richieste di supporto che arriveranno dal territorio possiamo cambiare la slide grazie questo è giusto una timeline che abbiamo seguito e che stiamo rispettando in questo momento per cui conteremo insomma di raggiungere i primi obiettivi intermedi che il dipartimento della funzione pubblica ci ha segnato intanto i primi 17 esperti hanno preso servizio come previsto il 10 di gennaio e ha iniziato a lavorare rispetto alla mappatura delle procedure alla loro conoscenza reciproca e alla conoscenza tra loro e le nostre competenze perché è inutile dire ma i nostri procedimenti noi siamo quelli che li conosciamo quindi l'esperto si può lavorare con noi se lo mettiamo nelle condizioni di lavorare con noi quindi noi abbiamo lavorato tanto in questa fase anche per condividere quella che la parte di know-how della regione con la parte di know-how che gli esperti possedevano dopodiché abbiamo iniziato lavorare con la città metropolitana di Torino e la provincia di Asti che erano stati individuati quali due enti con cui avviare la fase di sperimentazione nella prima diciamo nei primi 20 giorni di lavoro e al primo febbraio hanno preso servizio gli altri 43 esperti diciamo che i primi giorni me la sono gestita io perché non avevo ancora la struttura di riferimento poi sono arrivate i rinforzi e adesso diciamo stiamo al completo e una volta diciamo messo a posto e messo a punto tutti i documenti preliminari che ci hanno consentito di organizzare il lavoro che vogliamo proporvi sul territorio abbiamo deciso di presentarlo a tutti in maniera tale che tutti intanto capissero quali erano gli obiettivi del territorio del progetto non ci fossero diciamo delle incongruenze rispetto alle attese rispetto a quello che possiamo dare al territorio e proprio oggi gli ultimi è vero che a volte diventano i primi avremo la possibilità se funziona il sistema di farvi vedere una compilazione diretta della domanda di supporto che ciascun ente potrà formulare e trasmettere direttamente online alla nostra amministrazione dico una cosa importantissima uno degli obiettivi di questo progetto il primo obiettivo vero di questo progetto è la costruzione della baseline perché solo costruendo il punto di partenza possiamo poi dire se quegli obiettivi che ci hanno assegnato sono raggiungibili o meno ricordiamo che gli obiettivi devono essere sfidanti ma anche raggiungibili perché altrimenti il problema non si legge allora in questo senso abbiamo pensato che piuttosto che prima inviare gli esperti a costruire la baseline e poi fornire supporto che è un metodo diciamo che non ci portava subito ad essere di supporto al territorio creiamo subito le condizioni per dare il supporto al territorio e in parallelo chi chiede supporto ha l'obbligo di fornirci i dati per costruire la baseline la costruzione della baseline non interessa di tutti perché è anche sapere il punto di partenza di tutti e tutti confrontarci anche con le condizioni al contorno perché poi ognuno sa quello che succede in casa propria ma a volte non ci si rende conto di quello che succede attorno aggiungo una cosa sulle altre misure del PNRR perché comunque è un'occasione unica anche per organizzarci e supportarci anche sulle altre misure allora le misure che sono di competenza della direzione ambiente, energia e territorio sono quasi tutte concentrate nella missione 2 a parte questa che è la missione 1 ma è un caso particolare di rafforzamento amministrativo su queste misure noi per il momento non siamo soggetti attuatori come regione ma abbiamo deciso di essere soggetti facilitatori comunque al di là del ruolo che le amministrazioni centrali ci stanno assegnando quindi per esempio sulle due misure dell'economia circolare una destinata a legato e l'altra destinata alle imprese abbiamo deciso di presentare in anticipo il bando a tutti i possibili beneficiari schematizzandolo e rendendolo comprensibile facendoci anche carico di raccogliere le fac e richiedere direttamente al ministero come regione questo è un servizio che a noi comunque è servito molto anche per capire quali erano le prospettive del nostro territorio rispetto a queste due misure ma inoltre ci hanno anche dato il compito di verificare se questi progetti erano coerenti con la nostra pianificazione e programmazione quindi un piccolo diciamo ruolo di soggetto attuatore in qualche modo in queste misure l'abbiamo avuto ma è servito molto adesso noi siamo in attesa di verificare i primi risultati di questi due bandi che ormai sono chiusi per capire come raddrizzare eventualmente il tiro se continuare così su tutte le misure adesso ce ne sono due molto importanti che stanno per uscire una è la misura sull'idrogen valley che anche qui dovremmo qui siamo soggetti attuatori nel senso che il ministero della transizione ecologica predisporrà un bando tipo e saremo noi a lanciare il bando intorno alla metà di maggio per preparare il territorio qui abbiamo deciso di lanciare online una mappatura delle aree di smesse perché questa misura si attua esclusivamente su aree industriali di smesse della regione poiché le aree industriali di smesse variano di continuo intanto e non sempre i proprietari di queste aree sono anche i soggetti che sono intenzionati a investire sulle aree la nostra ipotesi di raccolta informazioni è anche quella di raccogliere sia dai proprietari che dagli investitori anche quelli privi di area e mettere insieme le informazioni in maniera tale da fornire un servizio di supporto al territorio e agli investitori per rispondere in maniera adeguata a questo bando che comunque è un'altra delle opportunità soprattutto in questo momento di crisi energetica evidente molto importante sul nostro territorio il terzo diciamo la terza misura che voglio segnalarvi è la misura delle comunità energetiche rinnovabili anche questa è una misura molto attuale molto interessante ha qualche criticità operativa per cui le regioni ne stanno discutendo un po' animatamente con il ministero riguarda come beneficiare le comunità energetiche già costituite nei comuni sotto i 5.000 abitanti e quindi capite bene che tutta l'attività di animazione e di supporto preliminare diventa fondamentale per poi poter essere beneficiari di quel bando perché solo chi è costituito potrà beneficiare di quel bando quindi in questo momento anche oggi abbiamo avuto un incontro importantissimo con la cassa di risparmio di Cuneo stiamo lavorando con la compagnia San Paolo stiamo lavorando con Envy Park con la direzione competitività in maniera tale da preparare il territorio per rispondere al bando ed essere competitivi ricordo che in questo caso si tratta di prestiti ma sono 252 milioni di euro che sinceramente sono dedicati e destinati al nostro territorio e che noi vorremmo utilizzare tutti e se per caso avanzassero dalle altre regioni anche utilizzare questa opportunità ulteriore che ci si può si può presentare quindi noi stiamo facendo di tutto per cercare di come dire animare promuovere e informare perché poi alla fine anche la diffusione delle informazioni diventa elemento sostanziale della nostra attività in questo momento appena abbiamo informazioni relativi ai diversi bandi che sanno per uscire perché si parla insomma del 15 maggio sull'idrogen valley ma sulle comunità energetiche rinnovabili al di là della diatriba Stato-Regioni sarebbero già dovuti essere pubblicati i bandi quindi stiamo arrivando al dunque vorremmo proprio che grazie anche all'aiuto delle associazioni dei comuni delle province che hanno un ruolo secondo me fondamentale perché comunque conoscono i loro territori ed è più facile lavorare con meno soggetti perché purtroppo siamo tanti 181 comuni di cui 1047 sotto i 5000 abitanti capite che è difficile raggiungere tutti invece noi vorremmo proprio raggiungere tutti quindi questa nostra strategia poi si integrerà con la strategia dei fondi strutturali che come sapete il presidente presenterà oggi giovedì pomeriggio in diretta quindi sarà il circolo dell'elettore a Torino ma potrà essere seguito in streaming e quindi questa logica qua può servire diciamo a sviluppare intanto alla ripresa la resilienza del nostro territorio sicuramente ma anche a individuare quelle che sono le eccellenze ma anche i punti in cui necessita maggior supporto questa è la mia presentazione passo adesso la parola per la parte più operativa della misura alla dottoressa Ferrario e poi all'ingegner Cesco che è uno degli esperti che quindi presenta lo stato d'avanzamento dei lavori possono pubblicare le slide allora buongiorno a tutti la mia presentazione andrà nello specifico della misura quindi dal punto di vista più tecnico della misura stessa partiamo ovviamente dai principali riferimenti della misura ovviamente tutto si innesta nel PNRR quindi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per quanto riguarda l'attività del nostro gruppo esperti tutto parte dal DPCM del 12 novembre 2021 a seguito del quale Regione Piemonte ha contrattualizzato 60 esperti adesso 59 come ha detto direttore Crotta il piano territoriale è stato approvato nell'ambito della misura e in questo momento il Dipartimento di Funzione Pubblica sta redigendo quello che sarà al sistema di gestione e controllo che ci permetterà di gestire contabilmente e non solo la misura partiamo da una cosa fondamentale dal punto di vista della rendicontazione del PNRR noi sappiamo che questa misura non solo la misura ma tutta l'iniziativa del PNRR si basa su un assunto diverso da quello che è stato per i fondi strutturali finora quindi i fondi strutturali hanno previsto fin d'ora una rendicontazione sulla base delle spese qui noi verremo valutati per il raggiungimento di quello che vengono definite milestone e target quindi noi dovremo raggiungere gli obiettivi per poter essere rimborsati dalla commissione europea questo ovviamente è un cambio di rotta un cambio di paradigma non indifferente perché anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere tesa al raggiungimento degli obiettivi e non solo al sostenimento delle spese nella maniera conforme dico non solo ovviamente perché nel momento in cui la pubblica amministrazione eroga delle risorse in questo caso paga il contributo degli esperti quindi l'attività dell'esperto sulla base del contratto ovviamente deve rispettare le norme applicabili mi interessava in questo momento spiegare anche agli enti locali qual è il sistema di governance della misura perché gli enti locali parteciperanno a questa misura non solo come soggetti beneficiari della nostra assistenza tecnica ma anche con un ruolo proattivo perché il PNRR prevede un modello di governance multilivello quindi il dipartimento della ragioneria generale dello Stato e del MEF avrà il servizio centrale per il PNRR la misura a livello nazionale è di competenza del dipartimento per la funzione pubblica e lì convoglieranno tutte le nostre informazioni rendicontazioni monitoraggio e soprattutto prova del raggiungimento dei nostri target previsti per poi effettuare la richiesta di rimborso alla Commissione Europea pertanto Regione Piemonte è soggetto attuatore della misura esperti PNRR quindi è un progetto che Regione Piemonte deve portare avanti attuare nel rispetto di quello che l'amministrazione centrale prevedrà come e prevede e prevedrà come normativa applicabile all'interno della misura questo vuol dire che ogni regione ha un proprio piano territoriale è un proprio progetto di esperti PNRR ovviamente c'è un coordinamento da parte del Dipartimento di Funzione Pubblica a cui noi aderiamo se si può andare avanti ecco a proposito di Milestone e Target questo è in sintesi il flusso che dovremo attivare il primo step quello previsto dal nostro piano territoriale di Regione Piemonte che è il 30 aprile 2022 entro il quale noi dovremmo verificare già da una baseline provvisoria e dalla raccolta dei dati se il nostro piano territoriale raggiunge tutti gli obiettivi e le necessità espresse dal territorio proprio perché i fabbisogni di professionalità possono essere ritarati anche in funzione di quello che vediamo sul territorio ovviamente il 30 giugno 2022 ci sarà il primo Milestone con il quale potremmo rendicontare il raggiungimento dell'obiettivo è una Milestone UE che prevede la definizione delle baseline questo sarà un momento fondamentale per il nostro lavoro e qui chiediamo agli enti locali una collaborazione massima quella prima una collaborazione massima proprio per raggiungere la definizione più puntuale della baseline cosa vuol dire che raccoglieremo i dati dei procedimenti fino ad oggi o meglio nel secondo semestre del 2021 quindi il periodo da luglio a dicembre 2021 dati sui quali i nostri esperti e tutte le regioni con ovviamente in principal modo il Dipartimento di Funzione Pubblica vedrà la valutazione della Commissione Europea e sulla base della quale andranno misurati i tempi di riduzione dei procedimenti amministrativi e l'azzeramento dell'arretrato pertanto a seguito poi della definizione delle baseline si attiverà quello che sarà il nostro punto fondamentale il nostro apporto fondamentale ai territori ovvero la definizione delle task force e la definizione dei singoli progetti di assistenza tecnica attivati sui comuni province città metropolitane e gli uffici regionali che avranno necessità del nostro apporto è previsto un rapporto di monitoraggio e valutazione ogni semestre e una rendicontazione bimestrale dal punto di vista gestionale finanziario se possiamo andare avanti la gestione della misura pertanto come vedete al centro ovviamente i nostri soggetti beneficiari che sono regione province comuni il flusso della misura prevede poi una rendicontazione presso le amministrazioni centrali per poi avere ovviamente come obiettivo non di attività ma come degna conclusione il rimborso della commissione europea il mio settore il settore che ho il piacere di dirigere avrà rapporto ovviamente con la cabina di regia perché si tratta di identificare in questa struttura anche la segreteria tecnica della cabina di regia di regione Piemonte e viene supportata dalla segreteria tecnica di cui fanno parte una parte dei nostri esperti di progetto tramite un'organizzazione una governance uno schema di governance che ci stiamo dando utilizzeremo la professionalità e mi scuso per il termine utilizzare ma dovremo assolutamente raccogliere tutta la professionalità che c'è nei nostri esperti per affiancare gli enti locali nelle procedure complesse tramite che cosa il coordinamento tra gli omologhi quindi per settore di operatività per profilo e a livello territoriale quindi avremo dei referenti fissi nelle task force territoriali ma poi per ogni singolo progetto di assistenza tecnica che approveremo nei confronti degli enti locali attiveremo il gruppo di esperti a seconda del fabbisogno espresso se potete quindi cosa chiediamo agli enti locali oltre alla collaborazione per la definizione del baseline noi siamo già sin d'oggi quindi da oggi è online il modulo per la richiesta di attivazione richiesta di attivazione della task force che prevede pochi campi e l'ingegner Cesco poi speriamo che si possa fare semmai una slide comunque vi diamo indicazioni di dove sia il modulo per la compilazione un modulo molto semplice che prevede che l'ente locale possa inserire le informazioni essenziali per poter chiedere l'attivazione della task force ovviamente già nella scheda si potrà identificare la criticità quindi una focalizzazione ma poi ovviamente l'esperto quando arriverà presso i vostri uffici con la task force predefinita parlerà con voi e identificherà esattamente quale sarà il progetto di assistenza come vi dicevo chiediamo la massima collaborazione agli enti sia gli enti che faranno richiesta di assistenza tecnica sia gli enti che contatteremo d'ufficio per la redazione della baseline dovremo raccogliere questo è lo schema previsto dal dipartimento di funzione pubblica questi dati pertanto riusciremo tramite la raccolta di questi dati a misurarci nei prossimi mesi dovremo misurare la nostra il nostro potenziale per raggiungere i famosi obiettivi previsti al piano territoriale all'interno di ogni ente locale noi chiederemo un ufficio di riferimento e un referente del progetto di modo che sia più facile la gestione anche della task force sia tutto più chiaro qualsiasi ovviamente problema o anzi problemi non ce ne saranno di sicuro qualsiasi occasione di miglioramento ovviamente sarà ben accetta con la richiesta di attivazione della task force noi procederemo alla verifica della fattibilità ovviamente e soprattutto della coerenza rispetto a quello che è il nostro piano territoriale quindi dovremo valutare se è coerente o meno a quello che sono le indicazioni emanate dal dipartimento di funzione pubblica a seguito della quale noi definiremo il progetto attiveremo la task force e gli obiettivi della task force ovviamente rendiconteremo al dipartimento di funzione pubblica tramite dei documenti che già ci sono pervenuti quindi timesheet e relazione rendiconteremo sia il lavoro per giornate dell'esperto sia l'attività in termini di output in questo chiederemo collaborazione dell'ente locale che ci aiuterà a rendicontare correttamente la misura la singola task force per poi essere in linea con quanto richiede la misura stessa ovviamente poi a seguito della della redazione semestrale del monitoraggio avremo modo di effettuare un'analisi a consultivo ed emaneremo il nostro rapporto di monitoraggio questo dal punto di vista tecnico ovviamente ricordiamoci dei principi trasversali del PNRR in particolare vi ricordo che noi non daremo supporto a progetti che arrecano un danno significativo all'ambiente questo è chiaro e in generale i principi trasversali previsti al PNRR come si diceva come diceva anche il dottor Pianetta poco fa ovviamente l'attività del nostro gruppo di esperti del nostro ufficio dovrà per forza di cose coordinarsi o integrare convergere verso quello che sono le azioni di semplificazione del digitale attivati a livello nazionale quindi pertanto ci sarà per forza di cose una sinergia rispetto a questi altri questi altri strumenti che sono in particolare l'agenda per la semplificazione e il piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione dal punto di vista tecnico vi ho spiegato tutto il nostro ufficio comunque è a disposizione per qualsiasi richiesta e soprattutto il modulo per la richiesta di attivazione delle task force è già online sulla pagina della direzione ambiente territorio d'energia ecco dottoressa può ripetere una cosa importante io sono un po' tardo e non riesco a capire allora ci sono tantissimi piccoli comuni che non hanno personale questo monitoraggio questa attivazione della task force chi la può richiedere soltanto quali enti locali tutti gli enti locali che tutti gli enti locali tutti gli enti locali poi noi procederemo anche d'ufficio per il tramite delle province o direttamente con i comuni unione di comuni in rapporto alla verifica del secondo semestre questo attiene alla nostra attività di gestione specifichi bene specifichi allora bene che cosa deve fare un piccolo comune che vuole avere un supporto di questo tipo certo perché non si è capito esattamente che cosa deve fare il piccolo comune il piccolo comune deve presentare una richiesta su una una singola procedura magari bloccata per un qualsiasi ragione cioè di progetti che sono già stati finanziati in passato o di progetti che sono adesso in gestazione noi possiamo supportare le procedure complesse che abbiamo visto nel PTR quindi le cinque procedure complesse e gli endoprocedimenti attivati non possiamo fare assistenza tecnica sull'attuazione e la presentazione di progetti di PNRR cosa vuol dire che l'attività di questo gruppo di esperti in realtà è propedeutica all'attività di attuazione del PNRR tramite l'adesione ai bandi ecco ma possiamo fare un esempio concreto per capirsi come? sì è vero ah ah buon perfetto allora vediamo perché poi dal dire al fare c'è di mezzo la collina poi lasciamo spazio le domande sì ah certo poi ci sarà la possibilità di fare delle domande ma vanno chiariti questi aspetti perché voi avete fatto un'illustrazione di carattere teorico va calato però questo genere di disegno sul territorio concretamente allora lasciamo perché altrimenti non riusciamo ad afferrare bene cioè voi dovete capire che la maggior parte dei comuni piemontesi non hanno un ufficio tecnico si avvalgono di esterni ecco ci sono dei responsabili di servizi che nella maggior parte dei casi sono i sindaci o gli assessori che magari fanno l'agricoltore o il fabbro ferraio e non sono in grado di poter recepire la portata teorica di questa tipologia bisogna proprio venire lì e fare il lavoro guardi dico solo questa cosa adesso io scherzo all'ingegner Cesco no no è così ma noi abbiamo ovviamente calato il progetto PNRR sulla realtà piemontese quindi la realtà piemontese come quella lombarda è particolare rispetto alle altre regioni cosa vuol dire che noi non abbiamo chiesto una survey non abbiamo mandato un documento da far compilare ai comuni proprio perché sappiamo di questa realtà abbiamo preferito attivare come diceva il direttore Crotta entrambe le attività che dobbiamo svolgere insieme quindi sia l'attivazione sui progetti specifici su cui i comuni ecco dobbiamo capire quello cioè su che cosa possiamo chiedere posso finire certo grazie sia sull'attivazione dei task force puntuali sia su quello che è il nostro obiettivo per poter rendi contare la commissione europea che è la raccolta delle baseline queste attività potrebbero sarebbero potute essere definite anche temporalmente fino al 30 di giugno la raccolta delle baseline e poi l'attività di assistenza tecnica il nostro obiettivo però è andare nei territori e accompagnare i comuni le unioni di comuni proprio per questa realtà quindi aiuteremo i comuni a chiedere a noi un supporto quindi andremo nelle realtà territoriali abbiamo fatto questi primi tre incontri perché è giusto massimizzare la platea dei destinatari come possiamo fare con la diretta web piuttosto che la messa online della conferenza però poi puntualmente andremo nei territori ed attivarci sia direttamente su progetti di assistenza tecnica sia per quello che dobbiamo fare per poter rendi contare alla commissione europea una sorta di tutoraggio vogliamo fotografare la concretezza delle situazioni degli enti locali per capire se e come possiamo attingere a questa task force passiamo pure la parola allora all'ingegner Cesco grazie grazie buongiorno un attimino che partiamo con le slide prego avvicini solo il microfono così va bene ok perfetto l'ingegner Crotta ha già detto questa task force questo gruppo di esperti scusate task force lo evito questo gruppo di esperti che è stato selezionato ha diverse competenze abbiamo agronomi architetti biologi geologi chimici ingegneri di tutti i tipi dagli ingegneri ambientali agli ingegneri energetici anche agli ingegneri gestionali casimai servisse sono un insieme quindi molto variegato che può essere speso sulle 15 procedure oggetto di supporto gran parte delle competenze come vedete è speso sulle valutazioni ambientali questo perché è stato individuato nel PTR che sono i procedimenti più critici prego il lavoro che abbiamo svolto può andare avanti con la slide per cortesia il mio intervento serve ad illustrare il lavoro che abbiamo svolto finora e il lavoro che è ancora in progress e che andremo a fare oltre ovviamente al lavoro di attività sui territori e di supporto agli enti lavoro già fatto è quello di mappatura dei procedimenti quindi siamo partiti dalla normativa a partire dalla normativa europea calata a livello nazionale e poi a livello regionale abbiamo definito quelli che sono i flussi dei procedimenti indicando le diverse fasi con i tempi per ciascuna fase da normativa e gli enti coinvolti enti esterni coinvolti e quindi abbiamo definito di fatto un flow chart di ciascuno dei 15 procedimenti questo ci serve come diciamo esempio come punto di riferimento per poi verificare il sul procedimento reale quello che sta presso lente quali sono le fasi critiche prego grazie cosa abbiamo fatto abbiamo costruito uno strumento molto semplice che questa è ancora la versione la prima versione che abbiamo fatto di fatto cosa abbiamo realizzato per ciascuna delle fasi abbiamo impostato le tempistiche da normativa che si confrontano invece con quelle che sono le tempistiche reali individuando i ritardi che sono sintomo di criticità questo è un lavoro che ci serve poi lo riprenderemo più avanti quando vi racconterò un'altra cosa un altro lavoro in progress che stiamo finendo di condurre dobbiamo fare un'analisi più di dettaglio e l'indagine che abbiamo fatto sui siti delle province in prima istanza perché c'era più facile raccogliere i dati andando a individuare qual era la numerosità dei procedimenti conclusi e in essere queste sono le due province che oggi ci ospitano e quindi abbiamo riportato questi dati questi dati ovviamente sono una prima indagine dobbiamo confrontarci con gli enti per cercare effettivamente di dare solidità ai dati grazie e questo ci è servito ovviamente per capire quale fosse il carico di lavoro da assegnare alle task force un altro lavoro che stiamo anche qui affinando è il sistema di monitoraggio sistema di monitoraggio che ci consentirà di analizzare da un lato l'andamento della task force del gruppo di lavoro sul territorio in riferimento alla singola procedura ma anche complessivamente raggruppando diciamo i dati su tutto il territorio l'avanzamento dell'intervento nel suo complesso grazie come vi dicevo lo strumento che abbiamo messo a punto ci serve per capire e raccogliere quelle che sono le criticità quindi uno dei lavori che dobbiamo portare a termine è la mappatura delle criticità per i procedimenti gestiti secondo la normativa attuale questo ci dà l'indicazione di dove siano i colli di bottiglia una prima parte è già confluita una prima indagine è già confluita nel piano territoriale presentato a novembre una seconda una seconda indagine che stiamo iniziando è quella sulle procedure chiuse andiamo ad analizzare delle procedure chiuse per ciascuna provincia e per ciascun procedimento in modo da evidenziare per ciascun procedimento per ciascuna provincia quali siano effettivamente le criticità sui procedimenti e sulle fasi aspetti questa volta mi è andato troppo veloce una cosa che vi volevo segnalare è che sul sito partecipa.gov.it c'è una una consultazione pubblica a cui possono partecipare enti e anche cittadini per andare a suggerire quali sono le e a segnalare quali sono le procedure da semplificare ok grazie il punto di partenza del nostro lavoro ma in realtà ci serve semplicemente è una tabella che serve a noi è la baseline ovvero capire come nell'amministrazione rispetto alla procedura si è comportata nel semestre dell'ultimo semestre del 2021 quindi quando andremo presso gli enti oltre a raccogliere quelle che sono le criticità raccoglieremo i dati relativi alle procedure concluse rispetto a quella che stiamo andando a supportare a questo punto vorrei mostrarvi il modulo moon o si ok qua ok va bene se mi manda avanti le slide ah perfetto grazie ok quindi richiesto di assistenza questo è un modulo che si trova sul sito di regione piemonte all'interno della pagina temi ambiente energia territorio a sinistra a destra scusatemi trovate ancora ambiente all'interno di questa pagina trovate questo modulo modulo di richiesta di assistenza tecnica PNRR dunque il modulo consta praticamente di una pagina iniziale di anagrafica del richiedente quindi tipologia dell'ente richiedente regione piemonte amministrazione provinciale o amministrazione comunale prego ok l'oggetto della richiesta con l'indicazione di delle priorità che derivano dal piano territoriale regionale da flegare una descrizione della della criticità e poi una richiesta di compilazione della baseline per questa richiesta di compilazione noi come esperti potremmo possiamo e siamo disponibili ovviamente a supportarvi qualora non ci fossero qualora non riusciste in qualche misura a completarla o non ci fosse qualcosa di chiaro all'interno di questa tabella grazie poi abbiamo invece la richiesta se disponibili di della documentazione da scaricare dai siti o eventualmente dei file da mettere sul da caricare su questa richiesta quali sono le criticità con un elenco puntato scusate una descrizione sintetica delle criticità per esempio avevo fatto l'esempio nel 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 sistema online per esempio di una bonifica di un sito industriale quali erano i prodotti e i risultati attesi quindi l'accelerazione per esempio del dell'iteristruttorio oppure la risoluzione di un problema relativo a mi viene in mente per il quale è richiesta la consulenza di un geologo e poi un numero di giornate richieste indicativo perché poi andremo a confrontarci con voi per capire magari ce n'è bisogno di più magari invece riusciamo a risolvere con meno giornate un periodo di attivazione ovvero un periodo in cui voi siete disposti come enti ad accogliere l'esperto grazie la tipologia di esperto richiesto se ne possono richiedere più di uno per ciascun per ciascuna competenza abbiamo anche un numero di di esperti che si possono richiedere ok ed infine ci sono le dichiarazioni e il salvataggio in bozza ricordo che se avete avuto necessità di di supporto per la compilazione della baseline potete lasciare questa questo modulo in bozza e verrete ricontattati per per compilare insieme la baseline arrivederci a presto un augurio che ci facciamo allora per scandagliare un po' meglio dal punto di vista della concretezza io ho capito questo e faccio il segretario comunale allora intanto la misura dovrebbe essere quella la numero due la missione numero due quella su cui si va ad operare cioè bisognerebbe io comune posso essere interessato a chiedere l'assistenza sui procedimenti amministrativi che ho seguito nel secondo semestre duemila e ventuno e così non necessariamente ecco ho paura che poi allora la baseline cioè il punto di partenza da cui misurare i risultati della misura su cui poi ci misurerà la commissione europea e quindi saremo chiamati a restituire o meno i fondi concretamente sono misurate nell'ultimo semestre duemila e ventuno quindi noi dobbiamo comunque mappare la situazione di criticità del semestre giugno-dicembre duemila e ventuno giugno-dicembre duemila e ventuno su cinque procedure complesse che sono quelle che abbiamo elencato sono tutte procedure ambientali bonifiche rifiuti rifiuti servizi di cointegrato rinnovabili e infrastrutture digitali l'unica non ambientale di fatto dopodiché e questo è un obbligo cioè il piano territoriale non può andare avanti se non costruisce la baseline se ci mettiamo tre mesi a costruire la baseline per arrivare al diciamo al target previsto dal piano come ci ha chiesto il dipartimento non partiamo col supporto è ovvio perché o facciamo l'uno o facciamo l'altro allora abbiamo pensato ma perché invece non facciamo il contrario partiamo dal supporto e chi ci chiede supporto è obbligato insieme a noi nel caso non fosse in grado perché non ha le competenze perché non ha personale a compilare la baseline relativa al suo ente quindi facciamo un esempio concreto il comune di Magliano d'Alpi chiede un supporto per le rinnovabili visto che è tanto impegnato che sta costruendo comunità energetiche rinnovabili una dietro l'altra ha una serie di richieste di pass di autorizzazioni sulle fonti rinnovabili quindi siccome il suo ufficio non ce la fa a da star dietro e si sono anche create delle criticità connesse a dei vincoli paesaggistici chiede un supporto si attiva immediatamente al tecnico in questo caso non ha il tecnico lo compila il segretario non ha il segretario lo compila un assessore non è un problema noi vorremmo un referente per poterli ma può essere anche un esterno che fa un consulente nel comune ecco questo non è una criticità l'unica cosa che per entrare nei sistemi regionali deve avere la speed quindi questa è l'unica l'unica cosa al vincolo dopodiché si entra si compila e lui metterà che la richiesta che vuole sulle fonti energetiche rinnovabili non vuole solo un ingegnere energetico perché non sta facendo un progetto di un impianto a fonti energetiche rinnovabili ha un problema amministrativo da risolvere rispetto alla PAS e ha anche un problema paesaggistico e una relazione con la soprintendenza difficile attiva tre professionalità che gli servono magari l'esperto giuridico un esperto amministrativo e poi anche l'esperto del paesaggio magari un ingegnere edile oppure ci sono gli architetti insomma c'è c'è una varietà di professionalità che su questo non mi preoccupo a quel punto lì se non è in grado di ricostruire la baseline rispetto al procedimento fonti energetiche rinnovabili quindi non è in grado di dire fondamentalmente nell'ultimo semestre del 2021 che cosa aveva in carico cosa ha concluso cosa è rimasta agganciata eccetera eccetera chiede anche agli esperti c'è il clic per chiederlo di fornire supporto anche per la creazione ma perché magari non ha un database organizzato non c'è soltanto la carta messa lì ha bisogno di un aiuto banalmente allora a questo punto lascia in bozza se lascia in bozza oltre le 24 ore è chiaro che non è in grado di andare avanti quindi noi contattiamo però noi abbiamo i dati abbiamo quindi il referente lo contattiamo diciamo che abbiamo visto vi mandiamo prima una persona magari un ingegnere energetico che vi ricostruisce insieme a voi le procedure e create la baseline in parallelo due o tre professionalità come richiesto verranno con voi per verificare i colli di bottiglia di quelle procedure iniziate adesso vediamo come potrebbe incidere sul PNRR perché secondo me anche questo esempio abbiamo fatto a Novara è risultato molto chiaro allora supponiamo che il comune di Magliano Alpi voglia abbia tre comunità energetiche costituite e quindi stia aiutando questi soggetti a partecipare al bando nazionale sulle comunità energetiche rinnovabili se ha l'ufficio impegnato a risolvere le procedure di autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili non ce la fa a fare anche questo allora in questo caso vedete la task force che da una parte si concretizza per ridurre l'arretrato chiamiamolo così e snellire i tempi dall'altra ti fa accelerare perché tu ufficio ti coordini e vai avanti sulle cerche questo è un esempio concreto oppure altro esempio impianto geotermico problema geologico che non si riesce a affrontare perché il comune non ha le competenze ci sono delle criticità con l'autorità di bacino i geologi ne abbiamo in tutte le task force quasi tutte le professionalità insomma sono presenti qualcuno un po' a scavalco ma non dovete pensarla come assegnata quindi in un momento potrebbero essere più incaricati alcune figure professionali in un altro o altre ma in realtà noi pensiamo dalla prossima settimana di andare a tappeto sui territori ecco l'altro elemento è il contatto fisico questo è l'approccio dopodiché seguo immediatamente il contatto quindi comunque le procedure complesse ricordiamolo sono bonifiche rifiuti servizio idrico integrato rinnovabili e infrastrutture digitali diciamo che la maggior parte degli enti locali dei nostri territori Alessandria e Cuneo potrebbero avere qualche procedimento o nuovo o vecchio su rinnovabili e forse su infrastrutture digitali sul servizio idrico integrato bisogna vedere se ci sono dei vecchi procedimenti ancora aperti sul sistema coniario perché servizio idrico integrato e bonifiche sono due delle misure del PNRR a regia dove la regione ha individuato i siti da bonificare per esempio e quindi ci sono dei comuni ma adesso non so se è sul vostro territorio ma sì dappertutto perché comunque è distribuito che avranno per esempio i finanziamenti sui siti orfani allora se hanno altre procedure avviate sulle bonifiche rischiano di bloccare l'avanzamento dei siti orfani e quindi non è casuale che ci siano quei procedimenti sono i procedimenti complessi che hanno maggior contatti con tutti gli altri endoprocedimenti perché se avessimo deciso di supportare tutto vorreva dire supportare tutti i comuni per fare un qualunque appalto era impossibile 60% però è importante il discorso della mappatura nel senso che se voi avete una mappatura magari quel sindaco o quell'amministratore non è neanche a conoscenza che all'interno del proprio territorio c'è quel procedimento già avviato o comunque bisogna fotografarlo quell'evento lì esperti avranno anche a disposizione tutte le misure che man mano si attivano sul TNRR quindi nel momento in cui comunque i colleghi dei comuni che sono interessati i finanziamenti lo sanno e stanno già affogando perché poi alla fine quando nei pochi nei troppo pochi quando nei troppi non sai come gestirli quindi siamo dell'idea che questa attività qua sarà molto utile anche per il TNRR perché comunque è fatta fortemente è confortante il fatto che comunque ci siate voi che non soltanto monitorate ma assistete i comuni e se c'è bisogno di qualche cosa o comunque di conoscere il procedimento vi interpelliamo ecco volevo dire su cui chiedo anche magari il supporto delle province e delle unioni di comuni in qualunque forma siano anche associazioni di qualunque forma è questa può succedere che alcuni comuni richiedano supporto sulle stesse criticità e quindi noi da back office potremmo individuare dei raggruppamenti di criticità comuni questo è interessante perché magari si potrebbe anche pensare mettiamo che nel provincio di Cuneo ci siano quattro comuni che chiedono esattamente la stessa cosa si potrebbero fare delle sessioni congiunte sul territorio magari avvalendoci volentieri se i nostri supporti tecnici ci aiutano ma sì ma anche perché molte di queste procedure adesso molte sono in capo anche alle province dalla mappatura che gli esperti hanno fatto abbiamo distinto poi le procedure di competenza provinciale da quelle di competenza comunale adesso al di là dei vari DL che in qualche modo semplificano e portano a livello più vicino al territorio e la competenza rinnovabili il 387 principalmente i colli di bottiglia sono in provincia non sono nei comuni è difficile che una passa abbia tutte queste criticità potrebbe arrivare la criticità di carico di lavoro questo sì e quindi è possibile molto possibile da voi invece ci sono a volte delle criticità che bloccano il procedimento anche per anni ricorsi contro ricorsi conferenze di servizio in cui qualcuno non dà il parere tante situazioni che possono verificarsi questa è la pagina della regione del nostro sito dove abbiamo una descrizione abbiamo inserito tutti i documenti ci sono tutte le presentazioni adesso la prossima settimana il vicepresidente Carosso in collaborazione con le associazioni delle province dei comuni manderà una nota a tutti i comuni con il link per il successo stiamo cercando di dirlo a tappeto a tappeto perché noi abbiamo l'interesse che tutti partecipino cioè non abbiamo da limitare abbiamo da ampliare e appunto il back office avrà anche siamo in pochi ma ce la faremo avrà anche questo obiettivo di accorpare le richieste se ci fossero dei colli di bottiglia importanti che riusciamo a risolvere grazie al supporto giuridico amministrativo e tecnico degli esperti potremmo anche pensare di formulare delle linee guida degli aspetti procedurali comuni e questo lo metteremo comunque a disposizione di tutti cioè se io risolvo un problema della provincia di Cuneo e magari provincia di Novara non me l'ha richiesto però metto comunque il risultato dell'elettività degli esperti fatta per la provincia di Cuneo a disposizione di tutti io penso che questa forse l'elemento le best practice ma in qualche modo valorizziamo questo finanziamento diventa una cosa tanto la dobbiamo fare ma diventa un'opportunità unica da sfruttare chiaro che anche per i nostri esperti è una sfida anche loro anche personale perché comunque cambiano il loro approccio da utenti della pubblica amministrazione diventano attori della pubblica amministrazione protagonisti e quindi anche l'interlocuzione un po' cambia rispetto a quella che era magari prima proviamo a sentire se ci sono delle domande qui in sala o collegandosi con l'esterno se ci date qualche riferimento lo proviamo ad esplicitare intanto chiediamo qui in sala se avete capito e se ci sono delle domande specifiche da fare prego si presenti buonasera a tutti io sono Luciano Messa sono assessore dei lavori pubblici del comune di Bra il comune di Bra ci crede fortemente nel PNR tant'è che in me c'è il dirigente della ripartizione e il funzionario che ha operato in tutti questi mesi sui bandi PNR quindi siamo in forza perché abbiamo proprio voglia di imparare abbiamo tantissimi progetti abbiamo candidato tantissimi progetti e ringraziando abbiamo già vinto anche qualche bando siamo però in una situazione un po' particolare cioè noi siamo addirittura nella condizione in cui abbiamo vinto dei bandi non siamo in grado di iniziare gli appalti perché a detta anche dei nostri tecnici ci mancano alcune informazioni per fare questi bandi provo a elencare e provo anche a chiarire la domanda poi magari passerò anche al dottor Ciceri il microfono relativamente alle procedure PNR quindi i bandi PNR che sono usciti finora che riguardano tendenzialmente i lavori pubblici che sono quelli che in questo momento sono stati un po' i protagonisti abbiamo alcuni dubbi su come fare proprio le gare d'appalto per individuare l'operatore economico cioè c'è tutto il tema di di NSH quindi come fare i bandi affinché poi diciamo i bandi siano coerenti con quello che ci chiede l'Europa dall'altro c'è un tema enorme su come fare i bandi rispetto all'individuazione dell'operatore economico massimo ribasso economicamente più vantaggioso in funzione anche dell'importo lavori un altro tema che secondo me è importante analizzare è il tema dei rapporti con la serventendenza voi prima dicevate siamo qua per aiutarvi rispetto alle procedure i colli di bottiglia penso che non ci sia un problema di una domanda errata mancano proprio le risposte ecco cioè probabilmente o c'è una situazione di non so di troppo lavoro ma i tempi che dobbiamo in qualche modo superare i colli di bottiglia che devono superare non essendoci silenzio a senso superano in qualche mese se non c'è la risposta della serventendenza anche un'attività abbastanza limitata non può procedere quindi non puoi rispettare i tempi ci sono alcuni bandi che se il cantiere non partono entro una certa data perdi i soldi ma se tu non hai la risposta della serventendenza o ti prendi il rischio di andare avanti da solo però non si può fare rispetto a questi dubbi noi siamo venuti qua in tre perché cerchiamo e forse abbiamo già anche mandato comunicazioni stiamo cercando delle risposte a questi dubbi la domanda è rispetto a questi dubbi voi siete di supporto visto che poi l'approccio che avete dato è più riferito a tematiche di tipo ambientale ecco nel nostro caso specifico adesso passano soccicere se vuole completare però nel caso specifico noi avremo bisogno di aiuto su questa cosa chiamandosi esperti PNRR ci aspettiamo ci aspettavamo una risposta da voi rispetto a queste tematiche proseguo o potete già la misura come vi abbiamo descritto non è finalizzata a fornirvi supporto per la partecipazione o per l'esecuzione delle misure del PNRR ma sulle procedure che vi abbiamo detto però ci sono due circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che penso abbiate già visto che rispondono alle esigenze che lei ha sintetizzato allora c'è la circolare quattro che risponde all'esigenza di fornire alle pubbliche poi vi mandiamo tutto a questo punto perché ho paura che non sia circolato tutto comunque consente agli enti locali di assumere a tempo determinato professionalità che li aiutino nella fase di progettazione e gestione dei progetti piano nazionale di ripresa e residenza andando in deroga ai vincoli relativi alla finanza locale e questa è la circolare quattro poi c'è la circolare sei invece che è una circolare un po' più difficile da interpretare che fornisce l'assistenza tecnica ma l'assistenza tecnica poi viene declinata in una nota piccola piccola nella prima pagina della circolare come attività di animazione monitoraggio rendicontazione quindi nella fase in cui vi hanno dato le risorse voi dovete predisporre i progetti fare gli appalti quella parte lì è tutta circolare quattro voi dovrete rendicontare le risorse monitorare l'avanzamento dei progetti quella è più assistenza tecnica allora qua bisogna vedere voi allora distinguiamo le cose di NSH quello è praticamente ormai qualunque bando anche del PORFESL futuri quelli che usciranno a breve richiedono la compilazione delle schede di NSH perché è un obbligo comunitario quindi su questo secondo me possiamo attivare un'azione dedicata questo in generale a prescindere dagli esperti PNRR anzi vi dirò che la faremo come regione Piemonte perché è più competenza nostra questa proprio della mia direzione le abbiamo studiate proprio per i bandi dell'economia circolare la difficoltà che hanno avuto legato le imprese a compilarle saranno poi obbligatorie per tutti vale la pena secondo me investire informazioni su questa cosa voi avete fretta perché adesso i bandi sono lì e dovete compilarla verifico un attimo come potervi fornire supporto possiamo anche chiedere agli esperti però onestamente esce fuori dal campo del piano territoriale non saprei come puoi rendicare di contare questa attività alla commissione europea quindi questo è il tema secondo rapporti con la soprintendenza anche la soprintendenza come tutte le amministrazioni ha un termine di tempo quindi però si può fare un'azione a livello regionale su questo a prescindere dagli esperti perché ripeto è inutile che io mandi gli esperti in soprintendenza per rispondere nei tempi non funziona anzi potrebbe anche scaturire una reazione contraria rispetto a quell'attesa potremmo fare un punto visto che noi lavoriamo molto soprattutto con i colleghi del paesaggio con le colleghe della soprintendenza di tutta la regione potremmo chiedere di fare una riunione urgentissima per mettere la loro attenzione sul fatto che in questo momento bisogna dare priorità alle pratiche che riguardano il PNRR dobbiamo darci una linea d'azione quindi questo diciamo che il collo di bottiglia qui è il fatto che non vi arrivi il parere della soprintendenza se ho capito bene rispetto alla sua sintesi allora se è riferita a una procedura bloccata verticale nelle cinque complesse agiamo con gli esperti se invece è riferita in generale a situazioni per cui bisogna dire alla soprintendenza che purtroppo in questo momento tutti dobbiamo concentrarci in qualche modo snellendo le procedure trovando delle soluzioni anche di diciamo parallelismo tra i procedimenti mettendo delle priorità sulle procedure PNRR che hanno dei tempi strettissimi perché onestamente la più grande difficoltà nell'attuazione sono i tempi allora a quel punto lì potremmo farlo a livello regionale quindi queste due cose me le sono segnate continuere col suo collega vediamo se ci sono ancora io volevo semplicemente aggiungere una cosa che questo mi dà spunto per dire che noi in provincia abbiamo organizzato quest'ufficio che è il SEIS il SEIS si dovrebbe occupare specificamente di PNRR sono cinque persone che abbiamo assunto appositamente con uno sforzo enorme dal punto di vista economico come provincia di Cuneo e sono di supporto ai comuni tutti i comuni del territorio sia per quanto riguarda le procedure di appalto sia per quanto riguarda ai contatti con gli altri enti vedi le sovrintendenze abbiamo già avuto un primo incontro con la sovrintendente che segue il Piemonte Sud che è a sede ad Alessandria si chiama Lisa Accurti e ci ha dato la sua disponibilità quindi se voi ci contattate ci chiedete un appuntamento ci sediamo attorno a un tavolo e vediamo di enucleare quelle che sono le vostre esigenze per potervi aiutare per poter dare un vero e proprio supporto amministrativo e tecnico la seconda cosa che abbiamo attivato e abbiamo appena approvato lo schema di convenzione è gli appalti cioè la provincia di Cuneo si è arrogata il diritto di organizzare una sua una stazione unica appaltante in modo specifico per fare gli appalti del PNRR ci proviamo anche noi siamo un banco di prova e vediamo di poterci misurare cioè voi ci dite abbiamo bisogno di fare questo appalto e noi ci attiviamo per gestire l'appalto come stazione unica appaltante soprattutto per le soglie che i comuni non possono affrontare le soglie comunitarie previste dalla legge allora proseguo per quanto riguarda le circolari anzi dette per quanto riguarda la circolare 6 noi come comune abbiamo fatto la richiesta perché bastava una semplice mail alla regioneria generale dello Stato la circolare poi faceva riferimento successiva a PEC abbiamo telefonato alla regioneria ci hanno detto ma la circolare scritta male dovreste mandare la PEC direttamente ai ministeri che praticamente sono non dico i soggetti autuatori ma responsabili degli interventi noi abbiamo mandato praticamente ovviamente finora non ottenendo risposta la PEC ai ministeri dipartimento alla presidenza del consiglio dei ministri per quanto riguarda il bando sport che è di imminente imminente uscita quello famoso che finanzia i 700 milioni di euro mi pare con tre linee d'azione almeno da indiscrezioni che ho avuto altri invece li abbiamo mandati al ministero dell'interno e proprio su questo quando parlavo di principio del DNSH ho notato delle incongruenze nella guida ai progetti quindi che devono rispettare questo principio quella che è uscita a novembre ci sono delle mappe di correlazione tra gli investimenti e le schede ad esempio noi abbiamo un intervento che non è nato in origine come progetto PNR perché ci sono diversi interventi quindi contributi per la messa in sicurezza i territori piuttosto quegli interventi che sono stati assegnati ai comuni in funzione della classe demografica per l'efficientamento energetico che sono rientrati poi successivamente ci sono stati due comunicati che appunto specificavano questo ci sono delle difficoltà perché per alcuni questi interventi abbiamo anche già fatto praticamente le aggiudicazioni perché faccio riferimento a quello dell'efficientamento energetico c'era la famosa scadenza del 15 settembre che poi è stata prorogata il 31 dicembre i criteri premiali sono usciti dopo quindi poi ci sarà poi un problema quando poi magari ci saranno delle attività oggetto di rendicontazione che le abbiamo fatte con una modalità ante l'uscita quindi ci saranno questi problemi di raccordo anche nella richiesta del CUP ma questo veniva poi detto e saranno poi sarebbero poi uscite altre altre indicazioni ma a prescindere da questo tornando su quell'investimento noi abbiamo avuto un intervento per la messa in sicurezza di una strada ho partecipato a alcuni convegni online anche organizzati da ANCI su questa linea di missione era detto non è possibile che siano finanziate le strade ho visto l'elenco ce n'erano centinaio ma a parte quello nella mappa di correlazione mi legava questa missione alla scheda vado a memoria pannelli fotovoltaici a quella sul cantieri dili e quella sulla rigenerazione sulla ristrutturazione di edifici che poco attengono con la messa a sicurezza in una strada urbana al che mi viene da pensare non sapendo né leggere né scrivere faccio riferimento alla scheda che secondo me è più attinente quella delle infrastrutture tra l'altro è scritto anche strada urbana ma penso di fare così è un tentativo perché di fronte magari anche richieste non sempre le risposte appunto sono così puntuali e precise e questo per quanto riguarda per fare un esempio mi viene chiesto il calcolo dell'impronta di carbonio se io intervengo su una strada queste cose qui che si fa si possono anche far tornare e qua virgolettato i parametri e questo punto per dire un po' un attimo la complessità e poi per quanto riguarda invece altre sulla circolare 4 la circolare 4 certo prevede la possibilità di assumere dipendenti a tempo determinato per la progettazione peccato che nella stessa circolare si faccia riferimento dei costi standard che per alcuni servizi ci sono mentre con riferimento alle progettazioni l'unico riferimento è il 50 che fa riferimento alle tariffe ministeriali lo sappiamo del 2016 a cui non possiamo fare riferimento per i dipendenti l'altro riferimento è quello dell'incentivo ma sfido io a trovare un tecnico dall'esterno che viene a fare un progetto con la quota è un tentativo però lo so benissimo che non c'è praticamente sul mercato una persona già valida per fare un progetto complesso comunque questa era la notazione questo però la circolare 4 recluta personale di fatto anche se è un tempo determinato e quindi segue le regole del personale degli enti locali e quindi segue le regole degli incentivi altrimenti fate un appalto di servizi e assegnate la progettazione segue la regola degli incentivi no in quel caso lì diventano professionistiche reclutate dal mercato pagate a prezzo di mercato mi permetto mi permetto di dire questo noi abbiamo scritto al ministeri come diceva l'architetto Cicero non abbiamo ricevuto nessuna risposta nessuno nel MEF nel ministero dell'interno ma questo già a partire da novembre dicembre gennaio a tutt'oggi sia la presidenza del consiglio dei ministri sia il ministero degli interni sia il ministero dell'economia e finanze nessuno dei comuni ma neanche noi come provincia abbiamo avuto un riscontro agli approfondimenti di questo l'informazione corretta è che la richiesta di assistenza tecnica va rivolta al ministero titolare dell'investimento quindi non al MEF non al ministero degli interni ma che ne so facciamo esempio dell'idrogen valle e al MITE questo è quello che ci hanno detto però anche su questo possiamo magari pensare io poi posso farlo non su tutto il PNRR ovviamente posso iniziare a farlo sulle misure di competenza alla mia direzione ma chiedere al MITE di fornirci l'indirizzo a cui mandare la richiesta perché ho l'impressione che qua si stia creando un'entropia pazzetta l'abbiamo chiesto e ve l'hanno detto allora proviamo a chiederlo noi visto che abbiamo contattato io penso che voi come regione abbiate più possibilità di ottenere qualche risultato questa cosa io questa non la sapevo e lo scopro oggi sul DNSH abbiamo trovato anche noi delle incongruenze ecco lì possiamo provare a organizzare una formazione chiedendo anche magari a invitali a qualche soggetto insomma che ci si sta già lavorando da parecchio di aiutarci a organizzarla online per tutti ed eventualmente se volete segnalare le incongruenze che avete già perché io su quelle che abbiamo visto noi sull'economia circolare non ho rilevato incongruenze cioè siamo riusciti poi a trovare la correlazione anche con l'aiuto del ministero però per cui se voi avete trovato incongruenze avete bisogno basta che mandiate una mail in questo caso possiamo utilizzare la mail PNRR supporto e vi diamo la risposta non vogliamo tra virgolette monopolizzare però sicuramente ringrazio per le informazioni che ci sono arrivate noi ci sentiamo tra virgolette abbastanza avanti però pur in qualche modo sottolineando l'importanza degli argomenti che avete trattato sappiate che quello che stiamo vivendo noi è qualcosa di reale cioè noi siamo fermi nel fare gli appalti perché ci mancano le regole vogliamo fare tante cose vogliamo rispettare la data del 2026 vi chiedo come regione di ascoltare il nostro grido d'allarme ecco al di là di questo tenere presente questi temi che per noi sono reali grazie conto che noi riceviamo queste risorse per fare quell'altro lavoro quindi noi su questo oggi noi abbiamo presentato questa misura le vostre istanze che non attengono a questa misura le registriamo le riportiamo fateci vedere anche a noi magari anche una mail una mail che condividiamo in maniera tale che le possiamo portare in capina di PNR mandaci l'elenco di queste cose noi se possiamo tra la regione e la provincia vediamo di dare una risposta e comunque il supporto da parte nostra l'abbiamo creato apposta questo servizio per poterlo dare quindi è qualcosa che dobbiamo fare ecco prego dottor Fantino il dirigente dell'ambiente della provincia di Cuneo sì una domanda per cercare di sfruttare al meglio questa opportunità che sicuramente è diciamo propizia nel senso che la possibilità di utilizzare questi esperti almeno per quanto riguarda le procedure che sono state elencate è sicuramente ghiotta la domanda è questa nel momento in cui viene compilata quel format di richiesta assistenza se ho capito bene ci sarà una sorta di ritorno da parte della struttura in tempi abbastanza rapidi dico bene ecco nel momento in cui c'è questo ritorno per l'attivazione pratica poi del personale ipotizziamo su un progetto che riguarda una procedura per esempio di bonifica di siti inquinati oppure una procedura autorizzativa in materia di rifiuti questa attivazione è specifica per quel tipo di progetto o è trasversale su tutta la linea cioè qual è la durata di assistenza che può essere richiesta per tra virgolette chiudere e portare in porto quelle procedure non so se mi sono spiegato chiarissimo può essere l'una o l'altra faccio un esempio il comune di Torino ha chiesto un'assistenza adesso non so se ce l'abbiamo già formula se l'hanno già poi inviata però volevano praticamente costruire delle linee guida da destinare a coloro che presentano le istanze al comune che normalmente non le presentano in forma adeguata e quindi i procedimenti vengono spesso interrotti per chiedere documentazione aggiuntiva chiarimenti formulazioni differenti della richiesta eccetera quindi loro hanno detto su alcune procedure di quelle complesse che avete indicato noi vogliamo un supporto che ci consenta di evitare la prima fase di stop del procedimento quindi questo è un caso che non riguarda un unico procedimento ma riguarda trasversalmente più procedimenti e volendo anche più procedure complesse tra quelle indicate quindi un'attività che alcuni esperti verranno chiamati a fare con il comune di Torino voi potreste fare una cosa analoga se avete una criticità su un procedimento verticale potete compilare una richiesta di supporto su quello ma potreste anche compilarne più di una perché non è necessario compilarne una un'altra potrebbe riguardare aspetti trasversali su cui lavorare insieme perché poi alla fine si tratta di lavorare insieme la semplificazione ricordatevi che è uno degli obiettivi di questa misura cioè loro di semplificazione e vi dico anche un'altra cosa le agende semplificazione normalmente vengono scritte da soggetti che non seguono questi procedimenti noi più volte ci siamo scontrati con cioè con agende semplificazione che magari dimezzavano i tempi ma noi non abbiamo bisogno di dimezzare i tempi abbiamo bisogno di rispettare quei tempi e non di bloccare il procedimento continuamente perché non si riesce ad andare avanti quindi l'obiettivo di semplificazione è legato più a snellire il processo e individuare i punti dove si ferma per capire perché si ferma e come risolverlo questo è il tema quindi questo il tema della semplificazione è un tema trasversale a tutta la misura non è che ridurre i tempi dei procedimenti non vuol dire andare dai 30 ai 15 giorni come ho letto da qualche parte che si sta cercando di modificare la 241 non è quello secondo noi è rispettare i 30 giorni con qualità ecco mi collego a questo punto per uno spunto diciamo non è un'osservazione ma diciamo cercare di sfruttare questa opportunità proprio in quell'ottica mi permetto di dire in particolare per i provvedimenti e per le disposizioni regionali perché molte volte ci troviamo in difficoltà su certi procedimenti a gestire o dei pareri o dei non pareri da parte di direzioni regionali quindi penso che sia una cosa nota adesso e quindi sotto questo profilo credo che sia più che opportuno anche proprio il fatto di come dire interfacciarsi e lavorare in modo tale da io dico superare queste criticità che non penso siano localizzate ma molte volte sono proprio di o mancanza di circolari esplicative oppure anche di indirizzi chiari per l'applicazione di determinate norme cito non so le concessioni a derivare per esempio o le procedure per appunto il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione unica per impianti idroelettrici ecco queste casistiche un'ultima cosa invece che riguarda più specificatamente la parte del servizio idrico integrato questo mi permetto di chiederlo perché è vero che non c'è di per sé una competenza specifica provinciale ma noi gestiamo degli iter che sono quelli autorizzativi agli scarichi e le procedure ovviamente del legato che chiede pareri e pronunciamenti e alcuni di questi interventi tra l'altro per quanto anche abbiamo notizia saranno oggetto di PNRR ecco in questo caso è anche possibile avvalersi della task force per avere un supporto specifico io dico tecnico barra amministrativo perché molte volte poi su questo punto come provincia per questa parte specifica di procedimento lei ha centrato perfettamente questo è l'obiettivo della misura uno di questi che le ha citato ma anche anche la sovranormazione regionale per dirla tutta facciamo un esempio della legge 40 va abrogato o modificata perché in contrasto col 152 a volte sui territori si ha la difficoltà di capire ma cosa prevaleno allora facendo uscire anche queste cose qua nel frattempo dalle soluzioni che i nostri colleghi troveranno noi agiremo per semplificare migliorare e non dimentichiamo anche che dentro la task force ci sono diversi soggetti esperti in digitalizzazione ok quindi c'è anche l'aspetto della transizione digitale che al di là delle procedure corre parallelamente alla misura sfruttiamo anche questa di opportunità perché comunque anche questo è il futuro della nostra attività facciamo tesoro di questi consigli è assolutamente centrato altri interventi e richieste prego si presenti buongiorno sono Guido Marino faccio parte del settore tutela del territorio quindi lavoro con il dottor Fantino mi occupo sia di autorizzazione integrate ambientali che autorizzazione unica ambientale emissioni in atmosfera insomma nei nostri settori ci si deve occupare di molte cose ecco questo potrebbe essere uno dei problemi nel senso i carichi di lavoro su procedimenti complessi centrati sui singoli funzionari che portano a a dei rallentamenti in questo senso la domanda che declina un po' quella del dottor Fantino è questa queste professionalità che avete individuato sono in grado di gestire un'istruttoria sono in grado di fare degli approfondimenti tecnici su materie specifiche quindi collaborare con noi nell'istruttoria tecnica grazie sostituiscono i funzionari delle amministrazioni gli esperti sono di supporto quindi un approfondimento tecnico per velocizzare snellire ridurre trovare la soluzione a un problema sì fare l'istruttoria al posto di un funzionario perché è obberato ad altre cose no non è previsto non firmano e non sono responsabili del procedimento questo per semplificare poi le casistiche che si potrebbero presentare quindi il fatto che ci sia un sottodimensionamento degli uffici può portare a una richiesta di supporto ma poi le attività che loro possono fare sono limitate a quelle del supporto esterno non diventeranno mai dei tempi determinati come funzione per farvi capire non diventeranno mai dei funzionari affiancabili ok questo è importante perché non è riconosciuta l'aspetto però possono assistere e dare dei e dare dei consigli su come risolvere dei problemi è proprio la loro funzione dare anche dei pareri beh buono buono anche questo però attenzione perché non possono fare l'istruttoria non sono istruttori e tra l'altro non so quanti adesso magari lo potranno dire anche loro non hanno mai seguito un'istruttoria no interna quindi dovreste formarli e diventa davvero complesso sono tecnici verticali sulle materie quindi però professionisti che possono aiutare bene altre domande dal web abbiamo qualche no al momento ci hanno chiesto semplicemente dei riferimenti dal punto di vista degli indirizzi indirizzi mail a cui scrivere è visto nella pagina della regione Piemonte basta scrivere anche su google PNRR esperti e dovrebbe portarvi nella pagina giusta della regione Piemonte lì dentro c'è tutto linkabile ci sono tutti i riferimenti ci sono i numeri di telefono ci sono le mail c'è la PEC perché c'è anche una PEC non so se state scorrendola perfetto vedete qui c'è il piano territoriale linkato lassù qui ci sono una sintesi praticamente delle professionalità gli obiettivi del piano territoriale cosa serve per aderire il modulo linkabile e poi c'è il DPCM 12 novembre 2021 che poi è la guida di tutta questa misura che suggerisco comunque di leggere perché comunque se noi non siamo stati chiari in qualche modo attraverso la lettura integrata rispetto alle nostre presentazioni del DPCM insomma c'è un chiarimento totale questi sono gli obiettivi la tabella degli obiettivi che ci ha dato il Dipartimento della Funzione Pubblica negoziabili a seguito della ricostruzione della baseline senza la baseline non sono negoziabili quindi poi non saprei come raggiungere il 100% di niente quindi insomma è un problema qua vedete negli allegati abbiamo messo anche le registrazioni dei tre eventi perché poi ogni evento ha portato delle richieste sarà interessante andare a sentire la prima parte ve la scorrete ma magari andate a vedere a Novara è stato molto interessante anche il dibattito a Torino un po' meno perché era il primo e non avevamo ancora il modulo pronto quindi insomma è stato il primo e a volte i primi non sono i più fortunati però insomma direi che c'è praticamente tutto noi ci stiamo anche confrontando con le altre regioni perché questa è una misura su tutte le regioni e devo dirvi che la scelta che abbiamo fatto noi è anche un po' diversa noi abbiamo costituito una struttura un po' come avete fatto voi nella parte diciamo PNRR l'ha fatto anche la provincia di Asti quindi insomma anche la perché se non sbaglio Cuneo è stata la prima provincia che l'ha fatto vedo che nel territorio si stanno creando delle situazioni simili e quindi ben venga perché il territorio ha bisogno di supporto e poi abbiamo visto che anche sulle altre regioni ho visto qualche commento non tanto favorevole quindi abbiamo bisogno di voi anche nella restituzione dei risultati della misura quindi quando ma non non la valutazione delle persone attenzione voglio essere chiara a parte che ognuno può anche esprimere dei pareri sulle persone ma a noi quello che interessa è capire eventualmente in corsa come migliorare il supporto quindi il feedback è fondamentale non solo a livello di monitoraggio della misura perché noi dobbiamo rendicontarla ma anche a livello di rivisitazione in corsa nel processo diciamo di pianificazione della misura stessa su questo vi chiediamo veramente aiuto i primi che chiederanno supporto adesso il comune di Torino vista anche la vicinanza hanno avuto la fortuna di accedere direttamente come primi alla richiesta di supporto devo dire che è stato molto interessante perché nella formulazione con i primi comunque ci sarà anche bisogno di far prendere il telefono una telefonata lunga la vita si dice no? non costa niente fare una telefonata fatela piuttosto perché il modulo ci aiuta a capire la situazione e l'esigenza ma una telefonata serve anche a noi a migliorare il supporto quindi siamo a disposizione adesso secondo me Ingegner Fantino bisogna sentirsi subito perché voi c'è la provincia a tutti quei procedimenti sono tutti almeno provinciali le infrastrutture digitali forse no ma se volendo vi contattano direttamente i colleghi perché veramente sarebbe un'importante un servizio che ha necessità di quel genere di supporti e poi invece su PNRR le cose proprio PNRR non misura PNRR esperti ma PNRR tutte le misure io mi sono segnata un po' di cose faremo in modo subito di farvi avere dei riscontri questo per il comune di Bra sì sì abbiamo segnato tutto anche i nomi e i cognomi e vi faremo avere del riscontro e magari proviamo subito sul DNS è un tema che ci stiamo ponendo anche noi perché nel momento in cui esco fuori con i bandi dell'OP2 del FESR dove voi siete obbligati a mettere il DNS vuol dire che non andiamo avanti di un metro quindi se prima non ci formiamo usiamo questi mesi anche per questo così siamo poi bene ci sono altre domande se non ci sono altre domande io inviterei i ragazzi del SES così vi presentiamo le persone che lavoreranno sul PNRR nel prosieguo sia per quanto riguarda le funzioni sia per quanto riguarda gli appalti e i servizi se venite qua davanti così ci inquadriamo anche con abbiamo il il dottor Bonomo la dottoressa Agnello la geometra Gallo la dottoressa Balocco e la dottoressa Gozzarino che fanno parte del nostro ufficio provinciale per il PNR che si chiama SEIS a cui potete rivolgervi l'indirizzo di posta elettronica è ufficio punto SEIS chiocciolaprovincia punto Cuneo punto IT per qualunque supporto servizio poi naturalmente noi ci raccordiamo con con la regione Piemonte con l'ingegner Crotta e con i suoi collaboratori quindi siamo a disposizione se non ci sono delle altre domande dall'esterno direi ingegner Crotta se chiudiamo prego qualcuno di Alessandria giusto per qualcuno era collegato da Alessandria erano collegati non so se se c'era qualcuno forse della provincia anche no di Alessandria cioè la provincia di Alessandria era collegata va bene ok perché comunque con le province inizieremo anche col contatto diretto mentre dai comuni ci attendiamo che siano loro a chiedere perché altrimenti non riusciamo a contattare tutti ovviamente quindi è preferibile che si attivino loro ripeto se lasciano in botta li chiamiamo noi quindi non è un problema avete visto a un certo punto delle schermate non volevo fare una puntualizzazione c'era forse la seconda schermata o la terza del modulo ci sono delle priorità no allora quelle priorità scattano nel momento in cui il numero di domande è superiore alla risposta che in tempi certi possiamo dare ok quindi perché ripeto siamo sempre 60 a 1180 90 dai mal contati allora anche perché ci sono anche le direzioni regionali allora il tema è questo se noi se si attivano subito le richieste nessun problema nel momento in cui andiamo in overbooking scattano quelle priorità lì e se avete visto le priorità il PNRR lì c'è cioè se c'è un'urgenza di un'amministrazione che se non libera alcune delle procedure rischia di perdere finanziamenti su procedure a cascata immediatamente si va su quella e questo è il motivo per cui chiediamo di compilare quei campi è importantissimo perché così ci rendiamo conto della criticità anche in termini temporali non solo in criticità della procedura perfetto va bene allora ringraziamo l'equip della regione Piemonte l'ingegner Crotta tutta la regione il presidente gli assessori e restiamo a disposizione di tutto il territorio della provincia di Cuneo e in questo caso anche della provincia di Alessandria che si è collegata con noi grazie anche ai tecnici chiediamo scusa per qualche disfunzione che abbiamo avuto qui nel banco grazie a tutti buona serata grazie a tutti